Girelle al salmone e yogurt greco. Facili, leggere e davvero squisite. Per prima cosa trita finamente un po' di rucola. Metti lo yogurt in una ciotolina e unisci la rucola. Aggiungi la buccia di limone. Versa qualche goccia di succo di limone. Aggiungi una macinata di pepe e mescola il tutto. Spalma la salsa e lo yogurt sul pane da tramezzini. Aggiungi il salmone. Aggiungi qualche foglia di rucola. Arrotola quindi la fetta di pane da tramezzini. Chiudi a caramella con la pellicola trasparente e trasferisci in congelatore per 20 minuti. Estrai dal congelatore e taglia il rotolo a fette stesse circa un centimetro e mezzo. Buon appetito!